Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dei Queccia MH500, degli scarponcini decisamente economici per un pubblico che si sta avvicinando alla montagna, un principiante prettamente, degli scarponcini che mi sono piaciuti sotto tanti punti di vista ma che hanno anche tanti punti negativi, di cui parliamo adesso nella recensione completa. Iniziamo col parlare di questi scarponcini dal loro peso. Taglia 43 pesano più o meno 450 grammi, 440 giù di lì. Nel mio 47, e attenzione il 47 è il numero più grande che viene realizzato, nel mio 47 pesano 550 grammi l'uno, quindi un chilo e cento insieme. Sono degli scarponcini che iniziamo a descrivere dalla suola. Suola di Decathlon, che dire, mi è piaciuta, fatta bene, ha un ottimo grip su praticamente quasi tutti i terreni asciutti, non bagnati. Quando inizia a essere bagnato, soprattutto la roccia, questa suola tiene praticamente nulla. Il fango lo supporta ancora ancora perché comunque ha una tessalatura da 5 mm, ma la roccia bagnata evitatela più che potete perché non va per nulla bene su quel tipo di terreno. È comunque una suola bella dura, che sono sicuro che ci si riuscirà a fare tanti chilometri. Io ce ne ho già fatti più di un centinaio e che dire, è ancora in ottime condizioni se non fosse che è sporca in questo momento, però penso che è uno scarponcino col quale ci si può fare tranquillamente anche sugli 800 km. Continuando passiamo all'intersuola. Un'intersuola che mi ha convinto a metà. Mi spiego. Io ho già fatto un trekking in cui ho camminato più o meno una decina di ore, un 25 km e 2000 metri di slivello quasi, e gli ho visto tutti i limiti di questo scarponcino. Alla lunga tende ad affaticare il piede, i sassi iniziano a sentirsi abbastanza. Che dire, è uno scarponcino soprattutto per questo intersuola che va bene fin quando camminiamo 5-6 ore, 1000 metri di slivello. E soprattutto non vi consiglio di utilizzarli per camminarci tutto il giorno sulla roccia. Un conto è troviamo qualche roccia, qualche punto, nessun problema. Ma questi scarponcini danno il meglio di sé soprattutto su terreni come strade bianche, single track, terreni di strada battuta e via dicendo. Evitiamo la roccia. Continuando, salendo iniziamo a parlare di tutta la parte superiore partendo dal puntale. Il puntale è abbastanza imbottito anche se non tantissimo, nel senso se ci si prende dentro la roccia ci si fa un pochino male. Come potete vedere io riesco benissimo a premerlo e questo non mi è piaciuto tantissimo perché io ci ho preso dentro le rocce un po' di male e l'ho sentito. Se fosse stato più imbottito, più duro, sicuramente sarebbe andato meglio, anche se naturalmente avrebbero dovuto aggiungere qualche grammo in più. E dal punto di vista della tomaia è divisa in due. Abbiamo tutta una parte in pelle scamosciata nella parte alta e poi una parte invece qua sotto traforata. La parte inferiore traforata è quella che dovrebbe garantire la traspirabilità e questo la traspirabilità ne garantisce veramente poca. È un grosso, forse il più grosso punto negativo di questo scarponcino, ovvero che è proprio poco poco traspirante. Utilizzato in giornate particolarmente calde, sui 30 gradi o ci ho sudato parecchio all'interno di questi scarponcini. Come dicevo questo probabilmente è il difetto numero uno di questa scarpa. Però di contro ha un'ottima impermeabilità. Ci ho infilato il piede nell'acqua in un ruscello con una bella portata d'acqua e beh, non ha avuto nessun problema davvero. Dal punto di vista dell'impermeabilità è fatto veramente veramente molto bene. Continuando salendo, naturalmente tutta parte in cuoio e per quanto riguarda il tallone, beh, innanzitutto come potete vedere troviamo una forma mid che con questa parte che scende sul tallone va a infilarsi più o meno sotto il malleolo. È uno scarponcino che offre un buon sostegno e ci evita in tante volte di dover svirgolare e che il nostro piede possa fare movimenti di questo genere. Che dire, dal punto di vista della stabilità mi è piaciuto. Non ho avuto nessun problema anche camminandoci su rocce e sentieri particolarmente sconnessi. Salendo ancora arriviamo a parlare proprio del collare. Non mi ha dato nessun problema. È bello imbottito. Nessun problema di vesciche, di punti di pressione, nulla di che. Li si mette su e si inizia a camminare senza tanti problemi. Per quanto riguarda la linguetta, anche essa molto imbottita. Mi piace la forma con cui è fatta che va a richiamare molto bene quella che è la forma del nostro piede. E infine, per quanto riguarda i lacci, sono fatti molto bene grazie alla forma EvoFit del piede. Riusciamo a serrarli veramente bene attorno al nostro piede. Ci si cammina davvero molto bene. Il piede all'interno non ha punti di pressione, nessun problema. Davvero io non ho sentito nessun tipo di dolore a camminarci anche per le dieci ore che ho detto prima. Per quanto riguarda la soletta interna, è estraibile e non mi ha convinto al cento per cento. Diciamo che come voto gli dà un 6, appena sufficiente. Non ha proprio un ottimo grip e soprattutto quando il piede inizia a sudare tende a far scivolare il piede verso la punta e questo può provocare unghieniere in discesa. Non mi ha convinto. Secondo me potevano mettere una soletta migliore o se doveste comprarli vi suggerirei di cambiare soletta. Per quanto riguarda poi la forma dell'avampiede, lo scarponcino è abbastanza ampio. Quando andremo ad acquistarlo sentiremo che il piede un pochino balla all'interno, ma è normale, perché essendo un pochino più ampio rispetto alle scarpe normali è fatto opposta per evitare che quando il piede va a gonfiarsi, perché camminiamo tanto, questa possa iniziare a stringere. E diciamo che in generale questa forma wide dell'avampiede mi piace. Infine, come ultimo punto, parliamo un attimo dei materiali con cui ho fatto questo scarponcino. Allora, mi hanno convinto, lo scarponcino è ancora messo abbastanza bene. L'unica parte naturalmente che si è rovinata è la parte in pelle scamosciata. A guardarla è abbastanza rovinata. Non penso che sia un grosso difetto, comunque la pelle è abbastanza strong. Si rovina facilmente, ma non si distrugge. Quindi sì, come dicevo per la sua alla, penso che questo scarponcino ci si possa andare avanti abbastanza come utilizzo. Perciò, in generale, mi sento di consigliarvi questi scarponcini? Sì. Secondo me, visto anche il prezzo costano praticamente 75 euro, se non ricordo male, sono degli ottimi scarponcini per chi inizia, per chi magari si fa le sue 5 sole di camminata, per chi si fa i suoi anche mille metri di dislivello in 10 chilometri. Come dicevo, hanno dei grossi limiti. Se iniziamo a superare questi parametri che vi ho appena detto, beh, allora inizieremo ad avere un pochino di più di problemi dal punto di vista per l'intersuola, soprattutto dal punto di vista del terreno, se troviamo un terreno bagnato, questi scarponcini non sono l'ideale, vanno bene per passare all'interno di ruscelli, grazie di impermeabilità, però sono scarponcini proprio da principiante, cioè da quella persona che li utilizza magari due o tre volte l'anno e basta. Chi va in montagna, veramente per poco. Se voi fate qualcosa di più rispetto ai parametri che vi ho indicato, beh, sul canale trovate tantissime altre recensioni di scarponcini che vi consiglio di andare a guardare perché questi probabilmente non fanno per voi. Detto ciò, ragazzi, io nella speranza di essere stato di sovrinteresse allo stesso video anche per questo video. Vi ringrazio per averlo guardato e ci vediamo al prossimo. Ciao!